In questi giorni molti si chiedono se è corretto e opportuno investire sul mercato azionario per gli investitori, per chi fa trading, se hanno maggiori probabilità di successo le operazioni al rialzo o le operazioni al ribasso. In questo senso ci arriva in soccorso un report di Credit Suisse scritto da Veronica Ruarova, Sonali Punani e Mariana Monteiro. Che cosa dice in sostanza questo report? Ma dice in sostanza che dobbiamo essere attenti all'evoluzione del prezzo del petrolio da un lato e dall'altro lato a quelle che sono le politiche monetarie e fiscali. Se il prezzo del petrolio non andrà, questo è lo scenario base, sopra i 120 dollari al barile come media nel periodo marzo-giugno e poi scenderà dopo giugno a 100 dollari al barile e il gas non supererà i 180 euro a megawattora e poi scenderà a 100 euro per megawattora a partire dal mese di giugno. E se ci saranno soprattutto politiche fiscali e politiche monetarie a sostegno delle famiglie e delle imprese per aiutare e calmerare i prezzi delle bollette e del caro energia, allora in questo caso ci saranno le proiezioni, i termini della crescita del 2022 dell'area euro. Saranno sostanzialmente più bassi ma non zero, non ci sarà recessione, saranno più bassi rispetto a quelli che ci aspettavamo qualche tempo fa, quindi ci aspettavamo crescere superiori al 3%, in Italia intorno al 4% e invece questa crescita sarà ridimensionata a cifre più basse, però sopra, ben ben sopra, al di sopra del 2,5%. Quindi tutto sommato l'investimento azionario può essere interessante e le maggiori probabilità e le operazioni di trading, per esempio a rialzo, in fase di ritracciamento, con il solo ritracciamento potrebbero avere maggiori probabilità di successo rispetto a quelle ribassiste. Questo ovviamente è lo scenario base, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa dice questo report, quindi effetti sulla crescita della crisi ucraino-russe. Innanzitutto i canali di trasmissione. I canali di trasmissione attraverso ci arrivano questi effetti negativi, ovviamente per noi che ci occupiamo di economia e finanza dobbiamo andare a vedere soprattutto questo, ovviamente stringere il cuore, le vite umane, l'evolversi del conflitto, però gli effetti negativi di quel contesto bellico arrivano in Europa attraverso i prezzi delle materie prime. Sappiamo anche che c'è anche una componente alimentare, la Russia e l'Ucraina producono circa il 28% insieme del 28% del grano mondiale, il 18% del mais e soprattutto anche sui metalli, avete visto quello che è successo sul nickel. Però noi ci dobbiamo concentrare su quello che è soprattutto il prezzo delle materie energetiche che poi hanno effetto sul prezzo, sull'inflazione in generale e quindi anche su quelle che sono le politiche mitigative. Vediamo queste ipotesi, io ho messo seconda ipotesi, in realtà è l'ipotesi base, seconda ipotesi perché nel corso del report l'avevano messa successivamente, però è lo scenario base. Un petrolio intorno ai 120 dollari al barile nel periodo marzo-giugno, che poi scende nel mese di giugno intorno ai 100 dollari al barile, e un gas intorno ai 180 euro, con una media che scende intorno ai 100 euro. In questo contesto il PIL dell'area euro si crescerebbe nel corso del 2022 al 2,8%, un punto in meno rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali per il 2022, al 3,8%. Comunque un contesto ancora di crescita. È chiaro che ci sono alcuni paesi che sono più vulnerabili all'aumento del prezzo delle materie prime, sono quelli che importano di più gas e petrolio, che non sono indipendenti dal punto di vista energetico. Questi paesi sono l'Olanda, l'Italia, l'Olanda, l'Italia e il Regno, un Regno Unito. Credit Suisse ha prodotto anche un grafico, eccolo qui, adesso lo andiamo a vedere, che è questo. Eccolo qui. Come vedete, Olanda, Italia, UK. Addirittura l'Olanda, l'80% del gas del petrolio viene importato, l'Italia il 75% del gas del petrolio viene importato, UK una cifra superiore al 70%. Una cifra superiore al 70%. Quindi ci sono paesi che sono più vulnerabili. Questo è lo scenario base. Quindi un petrolio, ripetiamo, con una media 120 dollari, si può seguire attraverso una media mobile e seguire nel corso del tempo quella che è l'evoluzione. Attenzione, c'è una seconda ipotesi. Un petrolio, invece, ha 160 dollari. E ricordiamo che negli ultimi giorni ha toccato a 130 dollari sull'ipotesi di un possibile embargo totale sul petrolio e il gas russo. Poi questo 130 dollari è tornato perché lo stesso Presidente Biden ha ammesso che l'Europa non può permettersi, lo vedremo poi nei dati, un embargo sul petrolio e sul gas russo. Invece gli Stati Uniti possono permetterselo. Il petrolio, se dovesse salire intorno ai 160 dollari al barile nel periodo marzo-giugno e poi scendere successivamente a 100 dollari al barile entro la fine dell'anno, un gas a 250 euro per megawattora nel periodo marzo-giugno e poi scendere anche ulteriormente ai 100 euro, ci sarebbe la restrizione tecnica. In questo contesto ovviamente la crescita del mercato azionario verrebbe mortificata e quindi i rischi aumenterebbero molto di più, si andrebbe in una recessione. Per non parlare di quello che potrebbe accadere, questo è lo scenario di base. Perché? Perché ci sarebbe questa decrescita del PIL? Perché il costo della bolletta energetica aumenterebbe. Qui vedete il costo della bolletta energetica salirebbe a quasi l'8% del PIL, già con lo scenario base a 120 dollari siamo poco tra il 6 e il 7% e invece in precedente era intorno al 4%. Ricordiamo che prima dell'invasione russa da parte dell'Ucraina viaggiavamo con un costo della bolletta energetica intorno al 4-5%. Quindi uno scenario base che vedrebbe un petrolio intorno al 6-7%, al 6-7%, al 6-7%. Ecco, quindi noi importiamo adesso la dipendenza, la conoscete benissimo, importiamo circa il 35% del gas dalla Russia e il 20% del petrolio. Attenzione perché quelli ci illumina dicendo che non solo un embargo totale potrebbe venire all'Unione Europea, ma potrebbe venire anche dalla stessa Russia, ovviamente si autocensurerebbe le proprie entrate economiche, ma anche da danneggiamenti per effetto del conflitto mondiale. E noi abbiamo anche i perché, diciamo così, cosa succede se vengono a mancare il 10% del gas totale? Abbiamo un danno al PIL del meno 0,7%. Quindi se tutto il gas russo non verrebbe comprato, chiuderebbe il rubinetto del gas russo, la perdita potrebbe essere del 35% perché 35% ne importiamo e ci sarebbe una perdita del PIL, in questa ipotesi teorica, del 3,5% di PIL. Vuol dire che una recessione, probabilmente, azzereremmo completamente la crescita e andremmo in recessione e addirittura ci sarebbe una crescita della disoccupazione che è legata alla decrescita del PIL significativa. Il Credit Suisse non lo dice, ma io la stimo intorno al 7-8% di crescita della disoccupazione. Quindi i paesi li abbiamo visti, ipotesi alternative sono proprio praticabili, sostituire quindi il gas russo attraverso altre linee, attraverso per esempio l'aumento della produzione interna, attraverso l'aumento della produzione di gas dot in Norvegia, Nord Africa, Azerbaijan sarebbe molto più complicato. O sapete che non abbiamo ricostruito di gasificatori nel corso di questi anni, quindi far arrivare anche il gas liquido da Stati Uniti e Qatar sarebbe una ulteriore complicazione. Quello che si potrebbe fare è quello che ha detto il Ministro degli Esteri dell'Unione Europea, attraverso una sostituzione del gas russo un 40% sarebbe sostituibile in effetti, non nel brevissimo periodo, non nel lunghissimo periodo, magari nel medio periodo andando a riprendere le produzioni di carbone, questo sarebbe l'elemento di switch possibile, l'elemento alternativo possibile attraverso dei risparmi in casa, un 15-20% recuperiamo, poi le altre possibilità sono evidentemente il ritardo al nucleare, l'accesso al nucleare e poi così riusciremo ad arrivare a un 35-33%, poi altre sono tecniche di tipo energetico. Quindi anche l'alternativa, non esiste un'alternativa praticabile. Io vi ricordo che questo video si può vedere sul canale YouTube di Traderlink e se vi iscrivete ovviamente sarete aggiornati sulla produzione dei prossimi video.